Il sogno di Dio è la nostra felicità. Padre Alex Zanotelli ce lo ha lanciato come un messaggio di speranza. Noi lo raccogliamo qui nella palestra di Gianni Maddaloni. Dietro di me c'è il tatami dove si allenano dei campioni olimpionici. Ma voglio ricordare che proprio ieri, ed è in tema con il nostro incontro quest'oggi, c'è stata la giornata di lotta di mobilitazione contro tutte le mafie. Io credo che anche tu con questa iniziativa dai un grande contributo alla ricerca della legalità. Sì, perché lo sport insegna la legalità. Quindi noi siamo in linea con la Gerbera Gialla che è un coordinamento antimafia che combatte la criminalità. E l'insegnamento è quello di dare ai giovani l'insegnamento delle regole e portarli sulla giusta strada. Quindi credo che sia importante la nostra presenza sul territorio perché non solo ai giovani ma anche ai detenuti adulti cerchiamo di dare a loro un'inclusione sociale attraverso lo sport. Ho accennato prima al tappeto, al tatami. Qui ho detto che qui si sono formati dei campioni. Sì. Continuano oggi. Quali sono i successi e qual è oggi l'attività che tu svolgi? Il nostro primo successo è stato con la medaglia d'oro a Sydney con la vittoria olimpica. Poi dopo siamo stati a Pechino, siamo stati a Londra con tre atleti. Adesso sogniamo con mio figlio Marco di arrivare a Rio. Ma alziamo il tiro ancora di più. Con i nostri figli cerchiamo di arrivare a Tokyo e dare dei modelli ancora per questo quartiere. Non solo Pino ma anche gli altri. Bene, pensiamo a Tokyo. Come ti chiami tu? Bright. E ti stai allenando per Tokyo? Sì. Quando sarà? Che anno sarà? 2020. Cioè tu lui si allena due volte al giorno, va a scuola, infatti fra poco andrà al catechismo perché l'anno prossimo dovrà fare anche la comunione. Quindi osserviamo tutte quelle che sono le caratteristiche per essere dei buoni cristiani. E tu piccola come ti chiami? Serena. Tu pure ti alleni per Tokyo? Sì. Ah però insomma, diciamo che di prospettiva sono buone. E tu come ti chiami? Ilenia. Ti alleni per dove tu? Vedo che fai danza tu. Danza e judo. Quindi non so ancora cosa farò. Questi sono i risultati finora ottenuti ma immagino che tu abbia sogni un pochino più vasti. Ma il sogno più ambito e quello che rispecchia la mia aspettativa in questo territorio è di dare la cittadella dello sport alla mia gente. Quindi una proposta che io faccio spesso alle istituzioni di potenziare questa attività perché oggi ne ho 450 ma sicuramente con la cittadella dello sport sulle caserme Boscariello che sono qui proprio a Scampia potremmo portare migliaia di giovani sulla giusta strada. Sì e noi auguriamo che questi sogni si realizzino. La mia vita sportiva è il libro di Gianni Madaloni da cui poi è stato tratto in gran parte la fiction, l'oro di Scampia. Siamo stati qui a far visita per far vedere una luce che in un quartiere così segnato da tanto degrado come Scampia si accende e lo ripeto come dicevo all'inizio insieme a tante altre piccole luci che in questo quartiere come dappertutto continuano a tenere viva la speranza. Noi Grazie Grazie